Esatto, è stato un bel lavoro di squadra, sono contenta che anche Regione Lombardia abbia contribuito in maniera concreta con quasi 60.000 euro a questo progetto e come è stato detto prima, anche questa è cultura, cultura della solidarietà, cultura del donare e quindi faccio ancora una volta, mi unisco ai complimenti per questa Lodevole Iniziativa e mi rendo anche a disposizione se c'è bisogno per andare a pedalare anche con Lodevole Garda, l'abbiamo detto prima, quindi qualche volta possiamo metterci anche noi concretamente per aiutare e portare avanti questa iniziativa.